Si apre oggi a Bari Green Accord il Forum Nazionale dell'Informazione Cattolica sulla custodia del creato necessario, l'impegno di tutti per alleviare fragilità umane e ambientali. Questo il messaggio lanciato dall'Arcivescovo di Bari, Monsignor Giuseppe Satriano. Prende il via oggi a Bari Green Accord il XVI Forum Nazionale dell'Informazione Cattolica per la custodia del creato. Nessuno si salva da solo e lo slogan scelto per questo evento che terminerà domenica 3 ottobre. Comunicare anche attraverso la stampa l'essere protagonisti di un unico destino che mette in gioco l'intera umanità rappresenta una sfida per una sempre maggiore responsabilità e dedizione verso le fragilità umane e ambientali che potranno essere alleviate solo rendendosi tutti parte attiva del nostro essere cittadini e credenti. E questo è l'invito che viene lanciato dall'Arcivescovo di Bari, Monsignor Giuseppe Satriano e partecipanti al forum promosso dal Green Accord Olus. Il forum è un'occasione per continuare a conoscere, capire e approfondire col supporto delle due encicliche di Papa Francesco Laudato Si e Fratelli Tutti le metamorfosi del mondo tra cambiamenti climatici e mutamenti demografici nell'intento di aprire le strade dell'avvenile a un nuovo rinascimento sociale ed ecologico secondo il presidente di Green Accord Alfonso Cauteruccio. I contenuti di questo forum realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto e della Regione Puglia guardano alle sfide che aspettano il mezzogiorno del ruolo dei giovani per una nuova coscienza ambientale e delle possibilità di protezione delle limitate risorse naturali di mobilità sostenibile. Il primo giorno di confronto e dibattito sarà dedicato al tema Non dovremo tornare alla normalità perché la normalità era il problema. Si parlerà di coesione territoriale ed equità intergenerazionale, ascolto come energia del cambiamento, beni da confiscati a beni collettivi, sostenibilità e finanza e nuove opportunità economiche. Nella seconda giornata invece si parlerà del consumo delle risorse naturali, un consumo che non può essere infinito, dai cambiamenti climatici alla biodiversità, alla rigenerazione urbana, all'economia circolare, alla crisi idrica, non dimenticando la mobilità e il turismo sostenibili. Tutti temi distringenti attualità che impongono una riflessione immediata anche alla luce delle nuove strategie europee e del piano nazionale di ripresa e resilienza. La tre giorni si conclude domenica 3 ottobre con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11 in cattedrale, presieduta da Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto.